In un paese selvaggio, dove la legge colpisce indifferentemente innocenti e colpevoli, dove la giustizia è in mano ai giustizieri, i destini di due uomini si incrociano. Brad Fletcher non crede nella violenza, ma non vuole subire. Hai detto che hai bisogno di qualche uomo in più? Voglio venire con voi. Borregar Bennett conosce una sola legge, quella di chi è più veloce. Vuol dire uccidere, capito? Ma tu non sei capace, professore. Due mondi, due concezioni opposte, si scontrano. Gian Maria Volontè Thomas Millen Faccia a faccia Domani alle 20.30 su Italia 7